Ebbene sì, sono 5 anni che sono qui in Canada. Per questo motivo ho deciso di creare una nuova rubrica. Ne parliamo dopo, rimanete lì, dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Sono 5 anni, come dicevo, che sono qui in Canada e per cui ho deciso di creare questa nuova rubrica. Dopo aver realizzato che la mia esperienza di lingua inglese era indissolubilmente collegata alla mia esperienza di vita all'estero. Così ho deciso di ampliare questo canale e di creare questa nuova rubrica che non andrà a sostituire la precedente ma sarà complementare. In questi 5 anni ho letto molte volte la volontà di molte persone di voler lasciare l'Italia. Però ho notato spesso che ci sono molti fraintendimenti e malintesi circa le aspettative di vita all'estero. Ci sono molte negatività riguardo l'Italia stessa, ci sono molte e spesso troppe positività riguardo ad un paese all'estero. Quando io ad esempio mi sono iscritto su diversi gruppi su Facebook italiani all'estero o che sia stato italiani a Toronto o gli italiani a Dublino o gli italiani in Australia e a Sydney ho notato spesso che c'era sempre una costante ed era una forte negatività riguardo l'Italia e un approccio all'idea di partire e di cominciare la vita in un altro paese sopravvalutando ciò che poi quel paese può realmente darci. Questa negatività dove in Italia tutto è impossibile, poi non è che quando poi vai all'estero si tramuta automaticamente in tutto è possibile. Ci tengo a precisare però che questo tipo di scelte sono molto scelte personali che non si possono giudicare perché non sappiamo mai i fattori che spingono le persone a partire. Cosa ci spingi a partire? Per quale motivo? Per una questione lavorativa, per una questione soltanto di voler conoscere un nuovo paese ed apprenderne la lingua o perché magari abbiamo una, non lo so, una relazione all'estero. Queste cose sono molto influenti poi per quanto riguarda la scelta stessa di partire. Per cui parliamo di un argomento molto complesso e soggettivo. Nonostante ciò io credo di poter portare la mia esperienza, credo di aver qualcosa da dire perché negli anni mi è successo molte volte di leggere cose e riguardo al Canada e ogni volta le leggevo, soprattutto sui social, e dico no, questo non è vero, no, questo non è vero, no, questo non è vero. Perché? Perché appunto si creano dei malintesi, ci sono delle notizie che non sono fondate, che non hanno fondamento. Questa è una bozza dell'idea che ho di come ampliare questa rubrica appunto, di cosa parlare. Perché veramente a me fa male quando leggo che con tanta leggerezza si vogliono fare dei passi così importanti, perché non è tutto oro all'estero, non è tutto facile, bisogna andare incontro a delle difficoltà sotto ogni punto di vista. Ci tengo a far chiarezza e ci tengo a descrivere com'è realmente vivere qui e le difficoltà oggettive che ci sono. Che spesso quando noi partiamo e quando noi viviamo in Italia non noi vediamo. Ci sono tutti questi discorsi che si tralasciano e si tende a credere che poi si arriva qui e tutto è più facile, tutto è più automatico. E ragazzi, non lo è, purtroppo non lo è. E anche quando ci si stabilisce, poi si deve far conto con le emozioni, con cosa abbiamo lasciato in Italia. Perché noi quando viviamo in Italia non vediamo mai cosa lasciamo. vediamo sempre cosa andiamo a prendere, ma no cosa lasciamo. Per cui quello che lasciamo un giorno verrà a bussare alla nostra porta e lì bisognerà fare i conti con le emozioni che si hanno al riguardo. Come dicevo, questa è una bozza. Ho soltanto gettato giù alcuni argomenti che andremo a trattare su questa nuova rubrica. Spero vi interessi questo nuovo argomento, molto più complesso e vasto se vogliamo. E come ripeto, non mi permettere mai di suggerire di venire qui o di restare in Italia. Sono scelte estremamente personali e delicate. Ci vediamo presto con un video specifico, qualsiasi argomento, suggerimento. e io sarò molto lieto di leggerlo, trattarlo e parlarne con voi. Ci sentiamo presto per un altro video. Un saluto a tutti dal Canada, da Antonio. Ciao ciao. E non dimenticate il like al video. Molto utile per il canale. Grazie ancora. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.